Dal Vangelo secondo Matteo In quel tempo, avendo udito della morte di Giovanni Battista, Gesù partì di là su una barca e si ritirò in un luogo deserto in disparte. Ma le folle, avendolo saputo, lo seguirono a piedi dalla città. Sceso dalla barca, egli vide una grande folla, sentì compassione per loro e guarì i loro malati. Sul far della sera gli si avvicinarono i discepoli e gli dissero, il luogo è deserto ed è ormai tardi, congeda la folla perché vadano i villaggi a comprarsi da mangiare. Ma Gesù disse loro, non occorre che vadano, voi stessi date loro da mangiare. Gli risposero, qui non abbiamo altro che cinque pani e due pesci. Ed egli disse, portatemeli qui. E dopo aver ordinato la folla di sedersi sull'erba, prese i cinque pani e due pesci, alzò gli occhi al cielo, recitò la benedizione, spezzò i pani e li diede ai discepoli, e i discepoli alla folla. Tutti mangiarono a sazietà e portarono via ai pezzi avanzati, dodici ceste piene. Quelli che avevano mangiato erano circa cinquemila uomini, senza contare le donne e i bambini. «Ci ama tanto, tanto ci ama Gesù, e vuole essere vicino a noi. Gesù si prende cura di quanti lo seguono. Il Signore va incontro alle necessità degli uomini, ma vuole rendere ognuno di noi concretamente partecipe della sua compassione. Ora soffermiamoci sul gesto di benedizione di Gesù. Egli prese i cinque pani e due pesci, alzò gli occhi al cielo, recitò la benedizione, spezzò i pani e gli diede. Come si vede, sono gli stessi segni che Gesù ha compiuto nell'ultima cena, allo stesso. E sono anche gli stessi che ogni sacerdote compie quando celebra la Santa Eucaristia. La comunità cristiana nasce e rinasce continuamente da questa comunione eucaristica. Vivere la comunione con Cristo è perciò tutt'altro che rimanere passivi ed estraniarsi dalla vita quotidiana. Al contrario, sempre più ci inserisce nella relazione con gli uomini e le donne di nostro tempo, per offrire loro il segno concreto della misericordia e della attenzione di Cristo. Gesù vuole raggiungere tutti per portare a tutti l'amore di Dio.